Oltre 10 miliardi di investimenti realizzabili nel prossimo triennio, suddivisi in 5 programmi. Banda ultralarga nel mezzogiorno, alta velocità tra Napoli e Bari, messa in sicurezza della rete stradale, sviluppo di piccole e medie imprese ed efficienza energetica. E questa la ricetta che l'Italia proporrà il prossimo 14 novembre alla Task Force europea annunciata dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan a margine del convegno FEMIP organizzato dalla Banca Europea per gli investimenti sugli interventi nel Mediterraneo alla stazione marittima di Napoli e che ha visto la partecipazione di diversi delegati dalle nazioni che affacciano sul mare Nostrum. Ascoltiamo il Ministro ai nostri microfoni. Potranno essere finanziati con fonti pubbliche ma anche private. Questi sono alcuni dei progetti più importanti ma ce ne saranno anche più specifici. Speriamo di poter identificare molti progetti per piccole e medie imprese e nel Sud. Bisogna lavorare per aumentare la capacità delle imprese italiane a fare progetti profittevoli e quindi che possano trovare finanziamento sul mercato o presso fonti pubbliche. Il Governo è fortemente impegnato, come sapete, con la legge di stabilità a creare occupazioni, a mettere le imprese in condizioni di assumere, a mettere il mercato del lavoro in condizioni di essere più flessibile per poter assumere e nella legge di stabilità, come sapete, anche ci sono importanti risorse per gli ammortizzatori sociali e per l'investimento in ricerca e sviluppo. Durante il vertice, quando il Ministro aveva già abbandonato la seduta, un gruppo di manifestanti riuniti sotto la sigla Clash City Workers hanno protestato contro il Jobs Act e in solidarietà gli operai di Terni coinvolti in scontri a Roma hanno indossato caschetti blu. Momenti di tensione quando agenti della polizia e militari della finanza hanno provocato l'uscita del gruppo dai cancelli del porto, successivamente chiusi. Ai nostri microfoni le ragioni di Sasso, portavoce del gruppo. C'è un rapporto dello Svimez uscito qualche giorno fa che dice che in sostanza il mezzogiorno in 10 anni, in 20 anni sarà il rischio desertificazione, sempre più persone partiranno, sempre più quelli che resteranno saranno consegnati a logiche di mera sopravvivenza, di sussistenza e di logiche criminali che sappiamo che sui nostri territori sono strettamente legati alle stesse dinamiche di governo, alle stesse dinamiche politiche. Noi rifiutiamo questo futuro che ci stanno preparando. Qua è in questione, ne va della nostra vita e lanciamo un appello affinché studenti, disoccupati, lavoratori più o meno precari, perché oggi nessuno può dirsi garantito, si uniscano e iniziano a contestare e a costruire l'opposizione a questo governo, che fino adesso sembra avere goduto di un plauso generale, ma che in realtà si rivela essere una tigre di carta.